Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale in questo nuovo video, nuovo pre-partita per Lecce-Verona che si giocherà domani allo stadio Via del Mare alle ore 18.30, valevole per il nono turno di questa Serie A si torna subito a giocare con questo turno infrasettimanale con una partita importantissima per noi ma prima di partire con il nostro contenuto mi raccomando mi piace, commentate, iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi aspettate da questa partita vista ovviamente la partita contro il Napoli che devo dire per la prestazione è andata bene per il risultato purtroppo ancora no ma partiamo con il nostro solito cenno storico prima sfida fra questi due compagini che è avvenuta nella stagione 1929-1930 in Serie B con il Lecce che vince l'andata a casa loro per 0-1 mentre per arrivare alla prima sfida in Serie A bisogna aspettare la stagione 85-86 dove ci fu un pareggio all'andata per 2-2 e il Lecce che vince a ritorno per 1-0 ma cos'è successo nell'ultima stagione? nell'ultima stagione abbiamo avuto un pareggio all'andata per 2-2 a casa loro e a ritorno invece il Verona che vince per 0-1 a casa nostra con il famosissimo, anzi con la famosissima testata di D'Averse che poi gli costò la panchina in tutto contiamo tra Coppa Italia, Serie C, Serie B e Serie A 49 incontri con 15 vittorie del Lecce, 14 pareggi e 20 vittorie del Verona ma come arriva questo Verona qui? il Verona arriva da una clamorosa sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo con il risultato di 6-1 e la panchina di Zanetti sembra essere molto instabile e pronta a saltare quindi arriveranno a questa partita cercando il tutto per tutto nonostante un quindicesimo posto e ben 9 punti in saccoccia il momento del Verona sembra essere più o meno il medesimo che abbiamo vissuto noi contro la Fiorentina solo che a loro ad aspettare c'è uno scontro diretto importantissimo noi invece abbiamo avuto un Napoli contro il quale non avevamo nulla da perdere e si è visto e quindi credo che questo scontro diretto ovviamente non solo sia importantissimo per quanto riguarda l'obiettivo stagionale ma anche come detto per il futuro prossimo del mister e arrivare a questa partita dopo una batosta del genere non sarà semplice e anche il giocare lontano dalle mura, dalle proprie mura, dalle mura amiche potrebbe avere un grosso impatto psicologico sui giocatori con un via del mare che sono sicuro sarà come al solito il dodicesimo uomo in campo e quindi spingerà il nostro Lecce che invece arriva da una buona prestazione come detto al Maradona contro il Napoli e seppur il periodo negativo stia comunque proseguendo perché è arrivata un'altra ennesima sconfitta A Napoli si è vista una squadra diversa rispetto alle ultime uscite un Lecce più solido che ce la mette tutta, che gioca sfrontato che mette anche in difficoltà gli avversari purtroppo ciò che ci manca ancora e inizia veramente ad essere sempre più pesante è la questione gol perché tre gol in otto giornate sono veramente pochissimi siamo l'attacco peggiore dei top 5 campionati abbiamo anche la peggior difesa di questo campionato con ben 18 gol presi la peggior differenza reti di questa Serie A insomma bisogna darsi da fare bisogna darsi da fare perché nell'ultima partita abbiamo messo in cantiere delle fondamenta che adesso bisogna consolidare per poter iniziare a costruirci sopra un qualcosa che ci porterà alla salvezza a fine anno ci sono ancora tantissimi assenti purtroppo e quindi più di qualcuno potrebbe ritrovare la titolarità come per esempio Pelmar che nella scorsa partita non mi ha fatto dispiaciuto non ha fatto male e si ritroverà anche Gallo sulla sinistra che ha scontato la squalifica e quindi ovviamente rivedremo indovinate un po' chi ci sarà alto a destra Dorgo molto probabilmente vedremo lui con Gilbert che dovrebbe saltare anche questa partita insieme ad Asa, Markvinsky, Beriscia, Burnete e Bonifazi insomma abbiamo un bel po' di assenti quindi sicuramente come detto rivedremo Pelmar rivedremo magari anche Rafià a centrocampo anche lui mi è piaciuto tantissimo nella scorsa partita ha fatto veramente una bellissima prestazione ha messo in difficoltà gli avversari ha dato Manforte in attacco anche se purtroppo non riusciamo mai a concretizzare nulla però l'ho rivisto molto molto bene molto molto meglio rispetto alle ultime partite che aveva fatto e questa cosa mi sta piacendo che sia magari una nuova pedina tra virgolette che può aiutare alla salvezza speriamo, speriamo continui così e questa partita come detto è importantissima io da questa partita però non posso aspettarmi nessun altro risultato se non quello della vittoria che deve essere obbligatoria in uno scontro diretto del genere purtroppo le difficoltà in attacco non mi fanno ben sperare purtroppo, diciamolo né Christovic, né Banda, né Dorgu né Odenna, né Rebic nessuno di loro purtroppo riesce ad arrivare al gol quindi anche lì davanti ci servirebbe un cambio di rotta repentino che però, cioè io dico le azioni comunque ci stanno le azioni le creiamo le mettiamo in difficoltà le difese abbiamo, ci liberiamo per il tiro è soltanto che una volta mi sei, mi pecchi di imprecisione una volta mi sei troppo frettoloso e quindi arrivi al tiro tutto scordinato, tutto storto e la palla finisce chissà dove è una volta troppa generosità come abbiamo visto anche Dorgu nella scorsa contro il Napoli che invece di tirare la mette dentro e quindi palla sprecata io non so che cosa abbiamo lì davanti perché se no non avremmo un Christovic che è primo per i tiri da fuori aria non avremmo così tanti tiri tentati sia nello specchio sia in generale nei tiri totali quindi voglio dire una propensione offensiva noi ce l'abbiamo il gioco lì davanti il più delle volte c'è perché riusciamo ad arrivare in porta riusciamo ad arrivare al tiro riusciamo a liberarci e che veramente ci manca non lo so a questo punto credo un po' di fortuna anche perché a volte basta basta anche quella per sbloccare un po' la situazione un po' di fortuna un tiro che magari prende una deviazione si infila in porta un tiro non bellissimo ma il portiere fa la papera che ne so o non riesce ad arrivare in tempo e la palla entra perché alla fine o abbiamo portieri che fanno le super parate vedi contro il Torino con Milinkovic-Savic o la palla finisce fuori di poco o come detto appunto tutte quelle già citate però passiamo alle probabili formazioni di domani con il Verona che dovrebbe scendere con un 3-4-2-1 con Montipo in porta poi Ghilardi Magnani Coppola Ciaciu Abelayan Serdar Bradaric Castanos Suslov e Moschera mentre il nostro Lecce dovrebbe scendere in teoria con un 4-3-3 con Falcone in porta poi Pelmar Gaspar Baschirotto Gallo Kulibali Ramadani e Rafià a centrocampo e invece poi in attacco Dorgu Christovic lì davanti e banda a sinistra io credo che questa sia una formazione molto molto buona con che poi in realtà potrebbe anche essere un 4-2-3-1 con un Rafià che invece di giocare da mezzala potrebbe giocare un pochino più avanti da trequartista al fianco di Dorgu e Banda ovviamente dietro Christovic io credo che questa formazione abbia tante possibilità di vincere questo scontro credo che si possa veramente far qualcosa come detto mi interessa la prestazione ma domani mi interessa anche il risultato quindi vorrei anche vincere 1-0 giocando male non mi interessa però bisogna vincere bisogna bisogna iniziare a vincere perché sì possiamo dire ok ancora presto ok ancora presto siamo solo alla non aggiornata però quando si inizia quando si inizia perché il tempo stringe il tempo stringe e bisogna bisogna iniziare a fare qualche punticino altrimenti dalla zona rossa non ci smuoviamo e poi può essere ci può essere tutto il tempo del mondo ma se non lo sfruttiamo poi inizia ad accorciare inizia ad accorciare arriviamo a metà stagione stiamo ancora qui e che facciamo quando quando è che ci mettiamo in campo a fare le cose quindi è vero che c'è ancora tempo è vero che il campionato è ancora lunghissimo mancano ancora 29 partite compresa questa però bisogna bisogna darsi una mossa bisogna darsi una mossa il tempo sta stringendo e io non voglio arrivare a gennaio al mercato di riparazione con 7 punti e 3 noccioline non si può fa non si può fa a gennaio si farà tutto quello che serve ci sarà qua sicuramente qualche cambio qualche innesto che io spero arrivi in maniera bella prepotente e corposa per questa serie A però fino a gennaio noi possiamo stare così con le mani in mano braccia concerte grattarci la panza e a non fare nulla e aspettare che siano gli altri che facciano più schifo di noi assolutamente no assolutamente no quindi scontro diretto da vincere obbligatoriamente tre punti obbligatori non ci sono altri risultati il pareggio non farebbe bene né a noi né a loro ma soprattutto a noi a noi non farebbe proprio bene no servono tre punti e e basta basta che poi segni Cristovic che poi segni Rafiao che mi segni Falcone sul rinvio da porta a porta non mi interessa bisogna vincere bisogna vincere quindi ragazzi io vi do appuntamento a domani sempre forza legge speriamo bene e niente ciudiamo domani ciao ciao ragazzi ciao ciao ciao